Il signor Catania, che è il ministro, l'onorevole Demitri, io sono la sua amante e sono la segretaria del leader della posizione. Susanna Rolandi. Susanna Rolandi. Ah, quindi segretaria del leader dell'altra parte. La situazione è praticamente scabrosa, non soltanto perché entrambi siamo sposati con altre persone, ma anche perché rappresentiamo le due fazioni opposte del governo, insomma. Sì, proprio un inciucio all'ennesima potenza, all'interno di un albergo dove c'è un efficientissimo direttore veneto. Sì, il direttore che è Nini Salerno e poi c'è questo strepitoso cameriere che è Raffaele Pisu, che approfitta della situazione delicata per raccogliere più mance possibile. Poi c'è la moglie del ministro che è Licini Alentini, mio marito che è Domenico De Santi, e poi ci sono Selene Rosiello e Antonio Pisu, che è figlio di Raffaele e che è strepitoso. Lui già era con noi in certa due piazze ed era bravissimo e qui ha ancora di più modo di... Ma è l'investigatore? Sì. Ah, è l'investigatore, bravissimo. È bravissimo, bravissimo, tra l'altro con una mobilità fisica fantastica. E poi ad un certo punto, per risolvere i guai, entra in scena Mario Girini. Però vediamo un po' di fotografie, no? È chiaro che non possiamo mandare in onda immagini di uno spettacolo che è tuttora a teatro, poi sarà in giro per tutta Italia già da un po'. Ecco, questa è una Miss classica di Miriam Misturino. Mi presento io in questo spettacolo. Inizia così, ed è comunque un bel vedere. Un bel vedere. Vediamo un po' di fotografie. Sì, l'abito è... Cambia il colore, insomma, la situazione è quella. Cambia il colore, ma insomma, la situazione è quella. Oh, ecco, questa è una scena bella, perché è proprio la commedia degli errori e degli equivoci a tutti gli effetti. Sì, con anche questo morto, insomma, questo cadavere... Che è quello appoggiato a te. Che viene animato da me per far credere a tutti che sia in vita, insomma. Quindi, devo dire, è molto divertente. La commedia ha delle genialità importanti. Possiamo vedere la foto di prima un attimo, perché se notate, all'angolo c'è Miriam con il solito avvigliamento. No? Poi si veste, però. Sì, sì, dopo si veste. Questa è la prima parte, resta 20 minuti così. Rosa Geragno. Vediamo allora una foto poi classica con tutti gli attori. Sì, questa è la foto. Ecco qua, con una fetta degli attori principali. Beh, devo dire che è un bel parterre di attore, vero? Beh, sì, devo dire di sì. Devo dire che quando abbiamo proposto questa commedia, le varie distribuzioni, nessuno credeva che potesse essere un bel parterre. Perché, ti dico, in Italia c'è questa tendenza a cercare il nome di grido per forza. Deve essere uno solo. Io invece ho sempre pensato... E questo è un bello spettacolo corale, eh? Sì, ma ho sempre pensato insieme a Miriam e anche all'architetto Mesturino, che comunque ci sostiene, perché poi andiamo ad Alfieri, quindi per noi è una bella opportunità. Ecco, sta andando anche molto bene, c'è molta gente per uno spettacolo di prosa e in un teatro così importante. E anche Bello Grande, eh? Per un grande teatro. E' Bello Grande, ed era quasi pieno sia ieri che l'altro ieri. E' l'altro ieri, quindi questo fa presagire a un weekend molto caldo. Sicuramente. E ce lo auguriamo, ce lo spieghiamo, perché insomma... Beh, però Antonio Catania è un bel attore. E' un bel attore, sì, però... Mini Salerno, voi... Purtroppo c'è questa tendenza in Italia di distribuzione, di distribuire spettacoli con un attore importante e basta. Di richiamo e basta, per contenere un po' le spese, un po' le cose. E invece noi abbiamo sempre sostenuto che l'unione fa la forza, quindi bisogna un po' stringere i denti in questo momento e cercare... Lui è un po' un matto, perché poi è lui che è il produttore di questo spettacolo. Ah, sei tu il produttore? Oltre che essere... Sì, io con la mia solidarietà. Tu hai fatto... Ah, ok. E' un po' un matto perché... Ma lui fa tutto, cioè, attore, regista... No, regista Gianluca Guidi. No, regista Gianluca Guidi. In questo caso, però in altri casi è stato anche regista. Sì, sì, sì. È stato un caso anche di là. Insomma, io di solito non dirigo quando recito. A parte questo Tornerò Prima di Mezzanotte, che Evo avevo già fatto, per cui mi sono trovato a dirigere Miriam ed altri attori che abbiamo fatto a maggio. È stato un bel successo, però è stato un caso, proprio una casualità. E in questo momento così, di crisi, di cui tutti sentono, lui si è lanciato in questa impresa, che è abbastanza un'impresa faronica, perché è uno spettacolo grosso, dove siamo in nove in scena, quattro tecnici, una scena anche importante, proprio la scenografia. Sì, la camera dell'albergo. È tutto un allestimento grande. Impegnativo, però bello.